Mmm, io sento aria di festa in arrivo, amichi! Sì, ora andiamo, ritorniamo dai bambini, così ognuno potrà avere il suo snack preferito! Mmm, io sento aria di festa in arrivo, amichi! Oh, anche tu sei il nostro miglior amico, Bot! E tu che dici? Ce l'hai un migliore amico? Bene!